... ... ... ... ... Chi è? Sono un assassino. Ehi, il transito è accomodato, non mi preoccupare. Vediamo che fa fritto, facciamo il caffè. Passata, passata. Ehi, il transito è accomodato, non mi preoccupare. Andiamo, andiamo, andiamo. Mi facciamo un bello caffè. Che dicevo? Mi sono venuto a toccare il bacino. Ehi, non mi preoccupate, è ancora il caffè. Mi preoccupate, ci prendiamo un caffè e poi facciamo tutto il cuore. L'assaltato, l'assaltato. Oh, un bello, un bello caffè, un bello. Grazie, eh. Prego, prego. Adoro, chi va mandato? Dove puoi frittare la pina? Ricciare la verità. Ma poi è meglio un'umanosa che è. Perché? Non so, per poco. Vabbè, se proprio lui ti ha accompagnato la porta. Un'umanosa! Pronto? Pronto? FBI? Sì, sono io. Sentite, questa è una vecchia stessa con un po' di mano. Guardate! E per lasciare la salsa rumen. Vabbè, subito vengo, sto facendo una cosa importante. Subito vengo. Ok? Arrivederci. Ciao, ciao. Gli ho, ucciso. Sì, come faccio il mio? Sì. Mi sembra che c'è vita a noi. Vai, vai, vai! Aaaaaaaaai. Sì, ma è il terzo piano. Ci stanno lasciandoci. No, stesse punti, no. Siamo in terzo piano. Allora, guarda, è un ferro di una scena. Allora, guarda. 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 Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda. Guarda, c'è la ventura qui dietro. Ma non è successo? È stata ancora sparata una signora. Presto, eh? Chiudo. Chiudi, chiudi. Come forza la ricetta? Si è sparata con due colpi. Oh, si è pronto i colpi. E' faccio il ritardo, ragazzi. Ragazzi, qui c'è la santo. Ah, allora, quando sei morta? Ma sarei quando sei morta. Aspetta, ora te lo dico subito. Sfuccafiamo un po' la fame. Stiamo qui, un'oretta e mezza fa. Andiamo a fare delle domande avvicinate. Ehi. FBI. Prego. Posso? Si, prego. Quello, perché lo sono la dalle. Prego. Che è successo? Come mai questa visita? La conoscevate alla signora al fianco? Si. Perché? Che è successo? Hanno sparata circa un'ora e mezza fa con due colpi. Cioè, io pensavo che era arrivata roba. Quale roba? No, niente, niente. Dite, no, niente, niente. Ma la conoscevate bene bene. Come? Sentite, io conoscevo la piccinella. Ce la faceva sempre, si può dire. Mi veniva sempre da caramello. Poi, non lo so, mi faceva fatta da male così. Va bene, cercate di stare reperibile. Perché mi possono fare a parte la domanda. A disposizione. Voi potete trovare su tutte le parti. Anche su Facebook. Facebook? Sì. Va bene. Arrivederci. Guarda pure. Buonasera, è febbiato. Eh, un minuto, aspettate. Voi conoscevate la vittima? La vecchia. La vecchia. La vecchia. La vecchia. La vecchia. La vecchia. Ti compro la vecchia? No. A me. Eh, a casa su. Non ci volevo manco venire. Ma la vecchia la terza piano. Ehi. Ma no, è mortale. E voi la vecchia la vecchia. La vecchia la vecchia. No. Sentite, che sembra faccio i samadhi? Eh, vuoi far rubare una roba. Felicità. Faccio una cosa più buona. Vabbè, grazie. Quindi, sentite, la faccio. Ma fate a sto mazzo. E senza servizio. Ma buiamo. Ma... Ma... Ma che cazzo. Ah, ma non ci abbiamo. Non ci abbiamo. C'è sempre la vecchia. Chi è? Chi è? Dov'è stata andata? Eh, ho dimenticato una cosa al terzo piano. E che stava facendo questa cosa? Eh... Eeeh... Eeeh... Mi riguarderò. Va bene. Buonasera. 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 Vabbè, si può... ...diti... Eeeh... 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 Pronto? FBI? Mi rigi hai? Si, sono io? I miei sono dice... E' una vecchia pitta... Eh, uuu, cazze. Ma buono. Ma sto facendo una cosa importante sui particolari. Va bene? Andiamo aiutaci? Ah, io facciamo una ciavocia. Un'altra porta di parlaremo. Ma la ciavo. Eeeh... Buono, i cinque erano anche troppo buoni per il macarone. Ma chi ti imparavi a fare il macarone? E' il buggente. No. come è morta la vecchietta? è stato sparato con due colpi come è morta la vecchietta? è stato sparato con due colpi come fai un uomo? ti dico a te ti dico a te tre quattro ore fa non ho capito, vengo qua eh, FBI prego si, si che è successo? prego accomodate, prego, prego che è successo? posso prendere qualcosa? che è successo? la conoscerà della signora a fianco? si, perchè? sai, quando la cilita è successo? tra i pochi ma non è un po' bene che è successo? che è successo? sai, quando la cilita è successo? tra i pochi la conoscerà della signora a fianco? si, perchè? è stata sparata con due colpi circa un uomo e mezza fa un uomo, un uomo un uomo un Cesumano un Cesumano ehi, uuuu ossa da te ossa da te ossa da te dove ossa da? mi diventava una cosa terzo piano ossa da te non questa cosa se no non è un giovane eh, mi dà un vetro oooh chi? spbruk ha prenduto ehi che è successo?